Los Angeles 1932 in questa puntata di London Calling con tutta una serie di infrastrutture create per le Olimpiadi. Assolutamente, per esempio a loro viene in mente di costruire il villaggio olimpico, cioè che no? Fino adesso sostanzialmente le nazioni erano per conto loro, dovevi arrangiarti. Quindi, alle Olimpiadi di Amsterdam tante squadre hanno dormito sulla barca con cui erano venuti, oppure se erano trovati un posto in albergo. Gli americani dicono, ma perché? E beh, la solita risposta è perché ho avuto un sacco di spazi e noi no. E soprattutto di questo villaggio olimpico che se ne fa a Olimpiadi terminate, ma non c'è problema. A Baldwin Hills tutti i maschi delle Olimpiadi avevano i loro piccoli bungalow. Sono ancora visibili e sono architettonicamente di altissimo livello. Ma che cosa volevano ottenere gli americani e ci riusciranno? E nemmeno il barone c'era arrivato. Se io metto tutti assieme, non riusciamo più a dire questo è l'atleta del e questo è l'atleta del. Stiamo tutti assieme. E quindi, gli inglesi mandano i nobili? Perfetto, io li metto col marciatore tunisino. Siamo realmente tutti atleti olimpici? Perfetto. E come facciamo noi negli Stati Uniti, dove tendiamo a livellare da questo punto le differenze di classe? Lo fate anche voi. Nessuno ci aveva mai pensato, ma da lì in poi si continuerà ad andare in base ai villaggi olimpici. E cioè, siamo tutti atleti. Quando gareggiamo, non mi interessa da dove venite e chi siete. E questo è effettivamente rivoluzionario. Poteva venire in mente l'inanimassima principalmente a loro. Difficilmente sarebbe venuto in mente agli inglesi, per dirne uno. Grazie a tutti.